Il 1816, l'anno senza estate, l'anno della povertà, l'anno in cui a tutti, in tutto il mondo, gelavano le chiappe. Il 1816 fu un anno gelido, le temperature erano scese a picco, dando avvio ad una piccola era glaciale che poi proseguirà negli anni successivi. Grandi tempeste, grandinate, inondazioni su larga scala, pioggia anomale resero di certo le cose non facili alle persone dell'epoca, soprattutto ai più poveri e agli agricoltori, che si videro i raccolti devastati dal ghiaccio e dalle carestie. Seguirono ovviamente enormi proteste, i magazzini di grano cominciarono a venire saccheggiati, le violenze esplosero in Inghilterra, in Francia, in Svizzera, in mancanza d'altro cominciarono a mangiare ad esempio il muschio o animali come i topi o i gatti. Il barone Karl Drais, in assenza di foraggio da dare ai suoi animali da traino, cercò metodi alternativi per il trasporto senza cavalli e ciò lo condusse all'invenzione della draesina, detta anche dandy horse o velocipide, insomma la bicicletta. Forse fu una coincidenza, chissà, non lo sapremo mai. Nel 1816 anche una certa Mary Shelley causa maltempo dovette inventarsi, mentre era in vacanza con i suoi amici, un gioco per poter passare il tempo, un gioco di scrittura, e nacque uno dei capolavori della letteratura mondiale, Frankenstein. L'unica cosa positiva di questa crisi climatica mi verrebbe da dire. Comunque, il 1816 non ebbe estate, non ebbe autunno, non ebbe primavera, ma solo un lunghissimo, interminabile e freddissimo inverno. Ok, ma perché ci fu questa crisi climatica? Perché ci fu un anno di fatto senza estate? No, non era un modo per boicottare l'aperitivo. La causa fu certamente l'esplosione del vulcano Tambora. Il vulcano Tambora si trova in Indonesia, precisamente sull'isola di Sombawa, e tra il 10 e l'11 aprile del 1815 erutta. A seguito dell'esplosione, la sua immensa cima collassa di oltre 1250 metri. Questa esplosione, fino ad oggi, è l'esplosione più devastante mai registrata. Le conseguenze furono gravissime, come detto. I morti oltre 70.000, di cui 13.000 uccisi direttamente dall'esplosione. L'esplosione del vulcano Tambora, secondo gli studiosi, fu 100 volte più potente rispetto all'esplosione del Vesuvio e corrispondente all'esplosione di circa 170.000 bombe atomiche. E non ce ne fu nemmeno una sola di esplosione. Ne seguì una seconda poco dopo e altre anche nel corso del 1900. Tutte più innocue, ovviamente. Aveva poi portato alla creazione di un aereo solo nell'atmosfera che impediva ai raggi del sole di passare. I tramonti tra il 1815 e il 1816 erano tutti di un colore rosso vivissimo, come ci mostrano moltissimi capolavori del pittore Turner, che in quegli anni appunto dipinse molti dei suoi quadri. Dunque questo non è senza estate. Una diretta conseguenza di uno dei più terribili cataclismi che ha sconvolto l'umanità e il mondo interi. Ah, giusto per chiarire, il vulcano Tambora è un vulcano attivo e molti studiosi si aspettano che prima o poi rutterà. L'unica speranza è che il vulcano Tambora trovi la sua anima vulcana gemella con cui trascorrere una vita tranquilla, come nel cortometraggio della Pixar, e che ci renda tranquilli anche noi. Vero duchessa?